Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo mio canale Come ve lo so io sono qui credibilmente ragazzi In compagnia di Lama Andoschi Su Call of Duty pazzesco Dopo 40 giorni di Fortnite non stop Ormai vedere Lama su COD è un miraggio ragazzi Non mi apriva neanche l'app Si rifiutava il gioco della play Non riusciva neanche a via 80 aggiornamenti accumulati Per un totale di 77 giga Che ha scaricato in ben 5 secondi Con la sua connessione imbarazzante Ragazzi questo è un video speciale Perché sarà lo speciale 350.000 iscritti Ma non sarà uno speciale mastodontico Di quell'incredibile o altro Sarà una semplicissima partita Mi stai dicendo che non sono abbastanza importante No no scusa E' il video più mastodontico Che si è mai uscito Sarà semplicemente un 1v1 solo sniper Ispirato ai vecchi speciali Che diciamo abbiamo fatto circa due anni fa Su Black Ops 3 per i 70.000 iscritti più o meno Appunto con le musiche tribali E' troppo divertente Andate a vederli raga Quei video ragazzi erano storia veramente E niente per i 70.000 iscritti appunto All'epoca abbiamo fatto sto 1v1 armi corpo a corpo E non mi ricordo in realtà magari erano 80.000 Vabbè sti cazzi Di ignoranza Si fosse una cosa del genere Ignorantissimo E quindi visto che da qualche giorno siamo arrivati a 350.000 iscritti Perché lui era il periodo in cui facevi uno speciale ogni 1.000 iscritti Si ogni 1.000 Ogni 5.000 Ragazzi devo fare uno speciale venite Ma inizia via Inizia via E quindi niente ragazzi Oggi faremo uno sniperata 1v1 In onore dei vecchi tempi Come speciale 350.000 C'è da dire che lui non gioca a CODA 40 giorni Vediamo chi vincerà tra chi non gioca a CODA 40 giorni E chi non sa usare il cecchino Si diciamo che Ognuno ha i propri problemi No è che ormai tu che stai giocando così tanto Può essere che sei diventato una bestia Si vabbè però tu con lo sniper sei sempre stato più forte E lo sarai sempre Perché cioè sei sniper nel sangue Vai 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 Ti diamo fuori questo sangue Lo sboccio via Questo sangue snipero Lama sniperoso Che arma stai usando? Il car ovviamente Bene anche io Ottimo Fantastico Mappa ragazzi purtroppo non è la famosa Nuketown di B.O.3 Del vecchio video Finchè non aggiungeranno Nuketown 1945 Dovremo giocare così Ma tu sei gli spawn in tutti contro tutti Ma che spawn Ma dove sei? Ma hai monta No abbiamo entrambi montana Quindi il radar No vabbè E' morto Eccolo Oh cazzo No Oddio No ma mi sento male Ho messo il radar apposta Vabbè io faccio avanti e indietro Sperando di back art Eccolo Oh il piede Eh mo che faccio Tu puoi fare Puoi fare dei No Oscop Madonna l'amo la ganto Ma dobbiamo darci indicazioni Perché se no ci troviamo Vabbè più di bello Eccolo Oh cazzo Oh mio dio Merda Oddio Il nosco Era la connessione Questa tua non morte Non c'è altra spiegazione Oddio Oddio Vabbè dai Questa clip qua verrà caricata La mia Mi sto registrando ragazzi No Questa è una sfida Ma l'hai guardata No mi sono dimenticato Ma come il nosco era bellissima Sì stiamo facendo solo nosco Il nosco che non sono Dove è quella tornata ora Il nosco che non sono mai riuscito a fare Ma perché ha questo tette così basso No Ma l'ho fatto a fare Ma l'ho fatto a fare hitmarker Dove Grazie Grazie Sì stiamo giocando solo di nosco Hitmarker nosco Guarda Porco No Pensavo dall'altro lato Sai Madonna mia Sto recuperando la mano Attenziono Sto ricaricando Con calma Ma porco Ho bloccato la ricarica Ma dai Ma stiamo ricaricando Porco ragazzi Non si riuscite a ricaricare 40 secondi per ricaricare Manca un mitraglione Dove è sto la malaggante Guardalo Mi ha accetto il coltellino tu Ma dai Ero convinto che avresti fatto il giro Ho tentato il nosco da qua Dove sei? Eccomi hai visto Cazzo 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 Dove sei? Dove sei? Mi ha fatto il giro Oh mio dio Noscoop non è riuscito No dai La ganta cerca di baitarmi Un fuoco rapido Eccolo Merda Merda Porco Bravo Mi ha ucciso Sono morto Ma sei un edditch della madonna Non ci sto Ma non si può sempre raccogliere i coltellini da terra Brutto No Cestorato Abbiamo fatto tutti e due la stessa identica cosa Eccoti Pezzo di merda I noscoop non entrano più Basta No ma ero completamente Era un nudo Mi sono sentito completamente in nudo Senza le mutande Proprio in quella scena Eccoti Porco Madonna mia Ragazzi qua c'è veramente da sudare Ci stiamo giocando veramente le chiavi di casa Cazzo stai camperando Merda No ti ho sferato Uh Due volte ho beccato la striscia rossa Non so dove andare Ho sferato No Ragazzi c'è Ve lo giuro Una sfida all'ultimo colpo Stiamo davvero giocando tutto Ma quanto si arriva? 30 Sì Non mi è parito il colpo Ma tu mi hai lasciato un coltellino brutto Cane morto No No Guarda Ti stavo tornando Tu mi hai lasciato un coltellino proprio da davanti Io penso che non c'erano solo proprio random Dalla distanza Invece no Sì Ti ho visto Ma proprio Non me lo stavi aspettato No 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 Ma era un noscoop Non lo so definire Vabbè dai Qua ti ho sferato in mezzo alle gambe Vabbè Questa è no scopo Vabbè Questa è stata abbastanza ignorante L'ho ammett Dai qua ti avevo visto all'ultimo mentre giravo Eccoti Porca No Ma è successo anche a me prima Nello stesso punto oltretutto Vaffanculo Ma c'è una maledizione in quel punto Sì Quel punto esatto Ma hai sferato senza mirare Perché io ero il mio era no scopo Ok Ma la gante impara subito i punti Li riutilizza contro il proprio nemico Oddio No No Perché non entrerlo Era così vicino Dai ragazzi È impossibile che non entrassi 11-18 Qua è dura recuperarla raga Tenteremo Oh mio dio Quanto hai sferato il coltellino Due volte No La malagante è già due Due eight marker su due Molto male Baggatissimo No 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 Dai Tu sapevo che salivi là Te lo giuro No Ma io non ero assolutamente Sì Ero attaccato Guarda il mio cadavere So vai a vederlo Ero attaccato al muro All'altra parte Facendo un jump No vabbè È stata la cosa più random Che avessi fatto Che potessi fare Ecco ti Ah e lo sapevi Che riva Questa Sì diciamo che dopo che vedo che non arrivi Dopo un minuto Dal front Per ovvi motivi No abbiamo Ancora il hit marker Ancora il hit marker Ancora il hit marker Da questa vista Questa ragazza è stata una cosa incredibile Doppio dolphin dive Doppio hit marker Mai visto Una cosa del genere Oh ma stiamo Stiamo facendo le stesse cose Oddio Via 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 Qua è combattuta Qua è dura Nessuno vuole perdere Nessuno farà la prima mossa Ci stai inseguendo Lo so Ecco ti No Vabbè dai No no Vabbè ciao Godo Godo Ci stiamo scambiando Su hit marker Praticamente Oddio Dai no vabbè raga E meno male Ti dice ti ammazzano anche adesso Più che altro È che la dinoscope Anche questo Come tutti gli altri No basta Ma cosa sta succedendo Cioè da un certo momento in poi Stiamo facendo Su hit marker Come hai fatto a fare il giro Così in freddo Bravo Orco cane Godo Guarda Guardala guardala Non so neanche come ho fatto No te lo giuro Non me l'ha tolta Non so perché Eh ogni volta Te lo giuro Freni quadrato così in freddo Questa che era stupenda Comunque Godo Questo è un quicksup Abbastanza violento Oserei dire L'unico quicksup Normale Che hai fatto Maledetto Avevo appena tolto la mira Per rifarlo pulito Ragazzi solo 5 kill Per firmare questa vittoria Epocale Ed è ora che parte il comeback Guarda non ti ho sparato Perché la stavo un po' mirando No Questa me la fai tu Guarda guarda come Perché tu prendi proprio il tempo E rimiri con calma No non miro io Faccio il nostro No no Intendo dire che Non è abbastanza Lo spirito da quickscoper Che spara ogni colpo random Praticamente E tu te li prendi con calma Cioè fai bene Merda Non pensavo mi vedessi Eh vabbè Ti piace gli esgrish No vabbè È leggermente un po' più Robusto il tuo Mamma mia ragazzi Niente da dire Niente da dire Come li hai visto Bastardo Potenza di Lamo Laganto Lo sguardo da Lamo Stavo per arrivarti un coltellino Ora posso iniziare a giocare serio Almeno le ultime 3 Quindi posso dire Aver te data vinta La gente inizia a capire tante cose Video falsi Di Leo Oddio Guarda Bastardo Ho visto tutti i video falsi Ragazzi Stavo scherzando Adesso la Adesso La conbecco Guardalo Arriveremo 29 29 Ultimo nosco Oh cazzo Sono morto No Ho tentato un nosco Più improbabile Non riesco a pigliarti Oh mio dio Vuoi ricaricare No 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 Sono incastrato No Mi ero stragiato Mi ero stragiato Dove eri Oddio No io mi sento male Però questo hit marker Dove sei Dove sei Vedo la tua testa No No Come che ti ho sferrato Coltellino Mi sa prima Ma qua io non conosco Gli spawn Assolutamente zero Neanche io Vado a intuito Eh Neanche io Ma ti pare che gioco TCT 1v1 Su questa cazza Warp best TCT player Oh la madonna Che laghi qua Eh aspetta ragazzi Aspetta un attimo Guardalo guardalo Tentare il jumpshot Questa situazione è molto Molto critica ragazzi Stai avanzando Lo so No sei ancora lì Ho rischiato tanto Ma sei già Orco No mi l'ho appena girato Per fuggire 29-22 L'ultima l'ha fatta no scope Ma a cagare L'ho fatta no scope Va bene dai Quindi l'ultima è no scope Eh vabbè Mamma mia Ambecchi Guarda dove si mette Per non farsi fare no scope Cioè Quando ho avuto quel dolfin Dai ho paura Oh no Sei troppo vicino Sei troppo vicino No No miro Dai ma è impossibile Cioè Sei un bastardo Questa regola è veramente Una merda Come quella di fare Ritaccionata la fine Eh allora falla carina Girandoti in volo Scegli un volo Eh beh Puoi farla anche Vai adesso la fai Puoi farla come vuoi Ecco ti Uh Mi ha sfiorato Devo ricaricare No Ricarica Questo ti ha sfiorato un botto Quanto ci mette a ricaricare Eccomi So già che ti sei nascosto qua A qualche parte Infame Dove puoi esserti Eccoti Guardate Raga Devo riuscire a ucciderti in no scope Eccola Eccola No No la ma è impossibile Cioè È stata la persona più sfiorata del mondo In questo momento No basta basta Io ci rinuncio Quasi vicissimo Come mi prendi No ragazzi Sono morto Rip L'amo Qua mentre fuggo La kill Sono morto Non ti entra È impossibile No Ciccolo Ciccolo Mentre fuggivo ragazzi Quanti te ne ho dovuti sparare per ucciderti Te lo giuro Ma mamma mia Combattutissima ragazzi Perché kill cam Ah ok L'azione eroica Che cazzo è kill cam L'amandolto Non lo so Ragazzi Io spero che avete apprezzato questo video Lasciate un bel like Per questo speciale Ringrazio Lama E ci becchiamo Al prossimo Ciao ragazzi Bella Ciao Ciao